Il GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, su richiesta del Procuratore della Repubblica facente funzioni Salvatore Vella, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente, ai fini della successiva confisca di Euro 1.258.317. Il provvedimento di sequestro ad oggetto denaro, beni mobili e beni immobili di un'importante azienda delicata, attiva nel settore della commercializzazione dei carburanti. Sono indagati gli amministratori VG, titolare formale dell'azienda, e il marito MC, gestore di fatto della stessa società. I due sono accusati di aver commercializzato illegalmente un quantitativo di gasolio agevolato agricolo, pari a circa 4.400.893 litri, che ha alimentato il mercato di contrabbando del gasolio per autotrazione. In sostanza, i due coniugi imprenditori, mediante l'utilizzo di documentazione falsa, avrebbero venduto abusivamente e in nero gasolio agricolo a soggetti terzi che non ne avevano diritto, evadendo la CISA e l'IVA normalmente applicata al gasolio per autotrazione venduto nei distributori di benzina. Intanto è in corso l'attività di perquisizione effettuata con il supporto di Aira, un cash dog, pastore tedesco di 5 anni, della compagnia della Guardia di Finanza di Punta Raisi, specializzato nella ricerca del denaro contante nascosto, denaro cash, che si sospette essere stato occultato dagli indagati. Dall'attività di verifica fiscale, intanto, svolta dai funzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, scaturita a seguito di una specifica analisi svolta dal reparto antifrode ed analisi dei rischi dell'ufficio delle Dogane di Porta Empedocle, sarebbe emerso che nel periodo 2013-2018 la società avrebbe utilizzato 62 libretti UMA di soggetti ignari e avrebbe emesso 4.517 fatture ed altrettanti documenti di trasporto falsi. Sono stati quindi sottoposti a sequestro preventivo, 8 conti correnti, 5 conti deposito e titoli, 4 abitazioni, 18 terreni, una autovettura ed un motociclo. Le indagini giudiziarie, intanto, sarebbero in fase di conclusione. Grazie.